Signori buongiorno dal salone del libro siamo qui allo stelle dell'automobile storico Torino chiamata ASI perché è esposta una auto ovviamente siamo un'auto molto club storico e troviamo una Alfa Romeo bella creata da Bortoni anno 1999 e un prototipo che non è un'auto di serie ve la facciamo vedere anche da dietro con questo posteriore che non c'ha affari guardate le porte senza maniglia le porte non hanno maniglia si ce l'hanno sopra e la linea che troviamo lì è la maniglia 155 cavalli che per l'epoca è tanto è parecchio per un'auto degli anni 90 quasi anni 2000 con la scritta bella lì che non si vede però c'è scritto lì vediamo il frontale tutta nera tutta anche il posteriore lì quindi qui dallo stand ASI è tutto dall'Astra Romeo bella by Bortoni ci si vede al prossimo video bella ciao